Ben tornati a tutti. Oggi è domenica, 1 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Domenica tutto mercatini e shopping. Settembre si conclude in bellezza, ma con la mano al portafoglio, fanno testo la luna impulsiva e spendacciona in ariete nella vostra seconda casa, sobillata per giunta dall'opposizione di Marte, che in fatto di tempestività per fortuna è più efficiente di lei. Aggiungeteci il sestile di Urano e Mercurio che dal lato opposto dello zodiaco, in vergine, guarda in un'altra direzione, dando carta bianca alle vostre piccole, grandi follie. Passato, presente e futuro, tutto rientra nel vostro carrello della spesa, dal mercatino delle pulci alla tecnologia che a sorpresa prende perfino voi, nostalgici e romantici. Serata in compagnia degli amici a casa vostra o di uno di loro, ciascuno porta il proprio piatto forte, ai fornelli su gentile richiesta preparate una meraviglia che vi costa un botto. Novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il sole, non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Se credete che basti una banale discussione per allontanare il vostro partner significa che avete ancora troppo poca fiducia in lui. La vostra gelosia non ha ragione di esistere e insistere potrebbe solo portarvi a una grande confusione. Ottima giornata solo con qualche piccolo contrattempo in serata che potrebbe cambiare i vostri programmi. È venuto il momento di fare pulizia nelle vostre amicizie, ce ne sono alcune che dovreste riconsiderare, altre da allontanare. Non rinviate ma iniziate stesso oggi. In aumento la responsabilità professionali. Scelte da fare. Più grinta favrorito l'amore per i nati di domenica. Speranze e desideri assecondati. Soddisfazioni dai figli. Ottime occasioni oggi si potrebbero prospettare per mettersi in proprio in qualche attività, in attesa di tempi migliori. Di certo che oggi avvertirete dei piccoli segnali che qualcosa nella vostra vita potrebbe cambiare. Sono piccoli eventi che però vi faranno capire che non dovete perdere le speranze per risolvere un problema che vi affligge. Se continuate a cercare il suo volto tra la gente potreste non accorgervi di qualcuno che vi ammira e che tiene a voi. Date spazio a chi intuitevi voglia bene in silenzio. Piccole ansie ingiustificate per delle novità che potrebbero affacciarsi nella vostra vita. Non lasciatevi prendere da paure ingiustificate, piuttosto assecondate queste novità in modo da capirle e trarre vantaggio da loro. Non siate così sicuri di aver perso delle occasioni preziose nel passato, oggi leggerete tutto sotto una luce diversa e vedrete alcuni spiragli importanti per la soluzione dei vostri problemi. Luna, Giove e Nettuno, i vostri tre nomi tutelari, vi sostengono e chiudono questo vostro mese in gioia. Con un po' di forza di volontà vi dedicate a qualche sport che vi appassiona. Urano benefico favorisce, per chi ne abbia la possibilità e viva nel luogo giusto, le lunghe nuotate che rimettano in moto i muscoli. Un buon equilibrio tra il ritmo del corpo e quello della mente, vi è assicurato dalla luna, nel segno del vigore fisico, la riete. La vostra condizione di benessere, che il luminare promuove, passa attraverso il nutrimento del bello e la visita a mostre, eventi e vernissaggi, questa condizione vi verrà assicurata completamente. Luna spendacciona in seconda casa, subito contraddetta però da suo marito il sole che e, sobillato da Marte grintoso, vi sorprende con una sgridata plateale. Per fortuna tra i pianeti, così come tra la gente, avete anche molti amici, Plutone e Urano entrambi in se stile. Solo Mercurio opposto in scena una breve discussione, ma poiché siete umili e adattabili ne spegnete subito i toni cercando e trovando il compromesso. Amore ed Eros. Col partner vi confrontate senza darvi addosso e se è arrabbiato per le vostre spese in caute e non potete dargli torto, avete sbagliato e gli chiedete scusa. Empatia anche con amici e parenti con i quali oggi vi scambiate piacevoli visite. Se portate loro un regalo però fate che sia simpatico ed originale ma non troppo costoso, attualmente non ve lo potete permettere. Mercurio in Vergine può però darvi qualche insofferenza e farvi manifestare comportamenti ribelli che di solito non possedete. Ma questo può non dispiacere alla vostra dolce metà. Giove, Nettuno, Saturno, Urano e Plutone sono costantemente positivi per il vostro segno e vi spianano la strada ad adattarvi alle richieste del partner. Lavoro e denaro. Focus sulle finanze, ci avete dato troppo dentro e ora i conti parlano chiaro, state camminando sul filo del rasoio. Promesse di aiuto da parte di chi vi vuol bene, insieme scogitate sistemi piacevoli per trascorrere la giornata senza spendere ancora. Una breve gita magari al mare ricorrendo al bus o al treno contro il caro benzina, ma anche la camminata o la scarpinata a piedi vi faranno piacere, aiutandovi a mantenervi in forma. Oggi vi renderete conto che quel che avete prodotto sarà stato molto e siete stati come al solito molto infaticabili nel mese appena trascorso. Non vi importa quindi se avrete un po' più la testa tra le nuvole del solito e non riuscirete a portare a termine nei tempi previsti tutti gli impegni che volevate. Benessere. Vietato mangiare troppo e soprattutto troppo velocemente mischiando pietanze, colori, profumi e sapori. Se siete intolleranti ai carboidrati attenti alle combinazioni, soprattutto non pigliatevela con la vostra povera pancia, siete voi a abistrettarla così. Vietatissimi birra e bevande gassate, piuttosto prendete un rosso che fa buon sangue, sempre che non vi dia la testa col rischio di farvi dire o combinare sciocchezze. Per lei, discussione con il partner riguardo le vostre spese in caute, non potete dargli torto, incassate senza replicare. Per lui, da un lato cercate parenti e amici per godere della loro compagnia, ma poi una volta rientrati a casa rimuginate sulle loro mancanze e sui lati del loro carattere che proprio non riuscite a mandare giù. Ma vi siete mai guardati allo specchio? Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.